Alla mia sinistra il direttore di girale Antonio Iazzetta, alla mia destra il direttore sportivo Marcello Brilla, gli umili di mercato della Fragolese. Direttore, abbiamo mantenuto l'impegno, verrò in trasmissione a Promozione avvenuta. Promozione avvenuta e arriva un successo importantissimo. Sicuramente, insomma. Fragola è una piazza che merita questo e altro, insomma. Passo dopo passo, piano piano, ci stiamo riuscendo. Ovviamente dietro tutto questo c'è una grande organizzazione, una grande società, come già è stato detto prima. Per cui adesso ci godiamo queste altre due settimane fino alla partita l'ultima in casa con Santa Maria La Carità e poi dopo pianificeremo un poco il futuro. Il direttore sportivo Marcello Brilla, volevamo basso ma è negabile che questa è una serata di gioia, di festa, in tutto l'ambiente rosso-blu. Certo, noi sabato abbiamo cominciato a festeggiare un po', ma aspettiamo l'ultima partita con Santa Maria per gioire veramente con tutta la città. E poi, come ha detto Antonio, facciamo passare un po' di tempo e vediamo che dobbiamo fare. E ci mettiamo allora. Grazie. Grazie.